A Monterebbero a 9 milioni di euro i regali del faccendiere Pierangelo D'Acco al governatore della Lombardia Roberto Formigoni. L'indiscrezione è del fatto quotidiano. Nell'articolo viene citata un'informativa segreta della Polizia Giudiziaria della Procura sui regali del faccendiere al governatore. In aumento le denunce per stalking a Milano, 800 dal luglio del 2010 al giugno del 2011 rispetto alle 500 dell'anno precedente, così come le violenze su strada. Lo ha detto il pubblico ministero Pietro Forno alla Commissione Sicurezza del Comune di Milano. Uno degli elementi che può fare la differenza sulla sicurezza, ha aggiunto Forno, è la presenza di telecamere sul territorio. Ormai nella Lega Nord i dirigenti parlano da separati in casa, Roberto Maroni da una parte e Umberto Bossi dall'altra. L'eterno delfino del carroccio mette alla porta il senatur e riafferma la sua leadership. Bossi non ha nessun potere, chiarisce, e la sua presidenza è un ruolo affettivo, il riconoscimento concesso alla sua storia personale. Appuntamenti a Milano, in consiglio comunale, provinciale e in tribunale. Altri a Como, un sitino a Monza, un consiglio straordinario adesio nel giorno del ventesimo anniversario della morte del giudice Paolo Borsellino. Era il 19 luglio 1992 quando un'autobomba lo uccise con la scorta nella strage di Via D'Amelio a Palermo. Rapina Lampo in una tabaccheria di Via Volta a Sant'Angelo Lodigiano. È durata una manciata di secondi il blitz di due banditi, uno dei quali armato di pistola, che si sono fatti consegnare 700 euro, riuscendo poi a dileguarsi. Avrebbe molestato sessualmente tre suoi allievi quindicenni, maschi e bergamaschi, dopo le elezioni di catechismo e durante alcune gite. E questo è il succo dell'ordinanza di custodia cautelare che ha spalancato le porte del carcere a un 54enne di un paese in provincia di Bergamo. L'uomo verrà interrogato domani. Avevano costituito un'associazione per delinquere e in almeno quattro casi hanno aiutato il genitore divorziato a sottrarre al coniuge i figli. Sono quattro gli arresti eseguiti tra Italia, Germania e Francia nell'ambito di un'indagine condotta a Milano. L'inchiesta è nata attorno alla sottrazione dei figli di Marinella Colombo, la donna che da anni lotta per vivere con i due figli minori assegnati al padre tedesco. Maxi sequestro di beni collegati alla mafia. La squadra mobile di Varese ha messo i sigilli a ville, appartamenti e barche da centinaia di migliaia di euro. I sequestri eseguiti su ordine del Tribunale di Milano non hanno ancora un valore definito. Il conteggio finale è ancora in atto. Prima i fatti dovranno essere aperti i conti correnti finiti sotto sequestro, ma si parla di parecchi milioni di euro.